Anche nel primo tempo potevamo chiudere con due o tre gol, non ci siamo riusciti, l'espulsione ci ha rovinato tutto, però la cosa che mi è piaciuta è che anche, come era già accaduto a Castellammare rimanendo con un uomo in meno, abbiamo fatto la partita anche noi con un uomo in meno e non era facile, questo è il significato di una squadra coesa, di una squadra che gioca in buon calcio, con una squadra che ha avuto delle difficoltà, però penso che dal girone di ritorno, a parte la battuta d'arresto strana con la Sicula Leonzio, ci stiamo esprimendo bene, sono contento per i ragazzi e sono felicissimo per i tifogi che sono venuti oggi a seguirci perché ci sono sempre stati vicino, sostenendoci, spronandoci, una vittoria importante per il gruppo, per lo splendido pubblico di Catanzaro e sono contento anche per la società. C'è stato un'incomprensione perché è stato il giocatore a venire addosso a me mentre battiava, io ho stata una indicazione, però lui ha motivato per il tratto fuori dall'area tecnica e quindi se per quel motivo è giusto.